Buon lunedì 4 aprile. Il Vangelo di oggi è breve e pertanto voglio leggerlo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero perché noi e i farisei digiuniamo molte volte mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Passaggio semplicissimo che ci porta a un comportamento, quello del digiuno che tradizionalmente è praticato da molte forme religiose e tende anche a essere forse eccessivamente praticato culturalmente. Naturalmente il digiuno implica anche la disponibilità degli alimenti perché laddove si digiuna per forza perché gli alimenti non ci sono questo non rappresenta una virtù. Ma in questo passaggio del Vangelo si sottolinea un'altra virtù la disponibilità, la piena partecipazione alla festa quando c'è lo sposo. Nella pienezza della presenza di Gesù non c'è nessuna ragione per fare il digiuno. Ma Gesù allo stesso tempo sottolinea come verrà il tempo in cui Gesù non sarà con noi. Quello sarà il tempo del digiuno ma allo stesso tempo dobbiamo cogliere costantemente la piena presenza di Gesù e fare festa. Questa precisazione che fa Gesù rispetto al rituale del digiuno in forma appunto, ripeto, tradizionale è un invito, a mio parere, che ci spinge a cercare costantemente la presenza dello sposo quando non è più con noi, quando ci è stato sottratto allora si è tempo di digiuno ma non fine a se stesso ma per prepararci alla festa quando ci sarà lo sposo ma il fatto che ci sia questa evidenziazione del molte volte fanno digiuno i discepoli di Giovanni e i farisei il molte volte significa una discreta frequenza e come contrapunto si vuole a mio parere sottolineare come la presenza dello sposo sarà prevalente nella vita dei credenti sapranno coglierlo costantemente quindi non sarà necessario fare il digiuno molte volte, capiterà ma deve essere un evento raro perché ciò che non deve essere raro è la presenza dello sposo nella festa può accadere uno smarrimento un allontanamento della nostra esistenza dalla presenza di Gesù una forma di abbandono della via della salvezza può capitare possiamo percorrere un sentiero nel quale non troviamo Gesù allora nel non vederlo, riconoscerlo nel non sentire la presenza dello sposo si deve spingere a fermarci a digiunare per ritrovare la retta via per far sì che appunto la festa per la presenza dello sposo sia la condizione fondante e prevalente della nostra esistenza non il digiuno ma la festa anche in questo vi è un radicale cambiamento in prospettiva anche relativamente ai comportamenti è un invito alla speranza al riconoscimento del piano di salvezza come qualcosa che orienta quotidianamente la nostra esistenza con piccoli smarrimenti non smarrimenti delle tante volte ma ripeto in questo passaggio del Vangelo brevissimo a mio parere viene sottolineato quanto sia importante la dimensione della festa più che la dimensione del digiuno con la giusta osservazione che non possiamo allontanare definitivamente anche il tempo del digiuno buona giornata a tutti